Oggi è mercoledì 11 novembre 2020. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 11 novembre 1974. Nella città giapponese di Sapporo si conclude il tour mondiale del tenore Giuseppe Di Stefano e della soprano Maria Callas, iniziato nell'ottobre dell'anno precedente. Sarà l'ultima esibizione in pubblico della Callas. Già malata a causa di una disfunzione ghiandolare che si trascina dall'infanzia e sofferente per l'aggravarsi delle condizioni della sua straordinaria voce, morirà quasi tre anni dopo nella sua casa di Parigi, dopo aver abbandonato le scene. Nata negli Stati Uniti da genitori greci, naturalizzata italiana e poi greca, dotata di una voce molto particolare per timbro, volume, estensione e agilità, la cantante riesce a dare una interpretazione tutta personale alle opere che interpreta, molte delle quali riscoperte dal pubblico grazie a lei, dopo essere state abbandonate per mancanza di interpreti adeguate. La sua straordinaria personalità e le sue capacità vocali fanno coniare per lei ai critici l'espressione soprano drammatico d'agilità e le fanno guadagnare l'appellativo di divina. Sull'origine delle sue straordinarie capacità vocali si racconta un episodio avvenuto quando aveva cinque anni, da cui sembrò uscire trasformata. Sfuggita al controllo della madre perché aveva visto la sorella maggiore dall'altro lato della strada, Maria attraversò di corsa, ma un'auto la colpì in pieno, trascinandola sotto le ruote. La piccola rimase ventidue giorni in coma. Più tardi Maria ricorderà che durante il coma strane musiche le ronzavano nelle orecchie. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile. Viverlo con lo spirito giusto vuol renderlo tale. Secondo uno studio della Iowa State University, dodici minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni inviandogli questo minuto di racconto può essere un'occasione per cominciare bene i nostri dodici minuti di oggi. Buona giornata.